Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avete detto dal titolo, andremo ad unboxare, recensire e testare una tappocamera e per la precisione andremo ad unboxare esattamente questa, la tappocamera C210, una telecamera di sorveglianza smart per interno. Dopo aver recensito la tappocamera C500, se vi interessa vi lascio il link qua sopra o comunque nella scheda qua vi comparirà, andremo a testare e unboxare questa telecamera qui. Una telecamera di sorveglianza da interno che si può muovere a 360 gradi. Prima di andare ad unboxarla però vediamo alcune specifiche. Una delle specifiche principali di questa telecamera è il motion detecting e tracking, vuol dire che quando si rileverà un movimento la telecamera, potendosi muovere a 360 gradi, andrà a tracciare, a muoversi e a seguire il movimento che viene rilevato. Dopodiché abbiamo addirittura una funzionalità che ci dice che viene rilevato un pianto di un neonato, quindi si può usare anche come baby monitor eventualmente. La risoluzione è in 2K, qua abbiamo il contenuto della scatola che poi vedremo insieme. Qua abbiamo tutte le funzionalità, vi elenco le principali, appunto il person detection, il baby crying detection, la definizione che è in 2K. Per memorizzare le riprese che vengono effettuate da questa telecamera si può andare ad inserire una micro SD fino a un massimo di 512 GB di capacità. E poi ok, supporta il loro servizio in cloud per andare a memorizzare le registrazioni appunto su un cloud che ha pagamento ma non è obbligatorio perché se noi ci inseriamo la micro SD possiamo tranquillamente memorizzare le nostre riprese senza andare a pagare il cloud per andare a memorizzare le riprese. Detto questo io direi che possiamo andare con l'unboxing e vediamo che cosa c'è all'interno. Allora, all'interno troviamo tutti i manuali, le guide rapide, eventualmente anche le guide per il montaggio a soffitto se si riesce a vedere. Dopodiché abbiamo il suo alimentatore per connetterlo ovviamente alla corrente, la staffa per collegarlo alla parete e al soffitto, scusate, per collegarlo al soffitto, abbiamo le due vitine con i Fischer e poi abbiamo la telecamera che vi faccio vedere adesso. Questa è la telecamera piccola che appunto si può muovere a 360 gradi. Per andare ad inserire la micro SD bisogna andare a muovere delicatamente ma con forza l'obiettivo in questo modo fino a liberare lo slot per la micro SD che va inserito esattamente qua sotto. C'è anche il pulsante di reset però comunque la micro SD va inserita lì sotto quindi delicatamente bisogna andare a ruotare manualmente l'obiettivo fino a trovare questo slot. qua all'obiettivo, qua dietro c'è un altoparlante, qua abbiamo l'ingresso per l'alimentazione e qua sotto abbiamo questi piedini antiscivolo e poi eventualmente ci sono i due agganci per andare a inserire poi il supporto da parete e andare a fissarla così se vi serve altrimenti potete tranquillamente appoggiarla sul tavolo e fare il suo lavoro. Quindi adesso io direi che possiamo prendere il telefono e vi faccio vedere come si configura, come si connette all'applicazione dedicata di TAPO che a mio parere funziona molto bene. Vado a prendere il mio telefono e vi faccio vedere come collegare e configurare questa telecamera. Prima di tutto io direi che possiamo andare ad alimentarla, quindi inseriamo l'alimentazione, in questo caso effettuerà dei movimenti per calibrare tutti i sensori, quindi basta attendere un momento. Intanto che si muove andiamo sull'applicazione TAPO, questa applicazione qua che potete trovare sia su Android che su iPhone. Come potete vedere adesso si sta muovendo per calibrare diciamo il fine corsa della telecamera. avanti e indietro dovrebbe fermarsi a metà, esatto, adesso muove l'obiettivo su e giù ed è a posto così. Come potete vedere adesso c'è un led che lampeggia rosso e verde ed è giusto così. Possiamo andare sull'applicazione e con il tasto più qua in alto clicchiamo su aggiungi dispositivo e qua possiamo scegliere su telecamera indoor, insomma tutti i loro prodotti. Questa in questo caso è una telecamera indoor e andiamo a cliccare su indoor. Di preciso il modello è la TAPO C210, quindi andiamo a cercare nella lista qua la TAPO C210, eccola qua, la clicchiamo e qua ci viene indicata la procedura guidata per andare ad attivare questa telecamera. Come ci dice qua dobbiamo alimentare la telecamera e aspettare che i led lampeggi di rosso e di verde. In questo caso sta già lampeggiando quindi schiacciamo già rosso-verde. Adesso dobbiamo andare a collegare il nostro telefono alla rete wifi della telecamera. Quindi andiamo sulle rete wifi, clicchiamo sulla rete wifi della telecamera e in questo caso come potete vedere si sta connettendo alla telecamera. Attendiamo un momento, l'ha trovata e adesso si è collegata. Ora sta cercando la rete wifi su cui poter lavorare, qua abbiamo la nostra rete wifi, gli diamo avanti, verrà connesso, ok, andiamo avanti. In questo caso si sta connettendo alla nostra rete wifi di casa, basta aspettare un momentino ed eccoci qua. L'ha trovata, noi possiamo andare a rinominare la telecamera, in questo caso non mi interessa. Possiamo andare a scegliere dove, in che scenario diciamo, andiamo a mettere la telecamera, mettiamo soggiorno in questo caso. Qua possiamo scegliere l'icona delle telecamere, mettiamo l'icona della telecamera, avanti. Ora si sta configurando e ci dice che abbiamo completato la configurazione. Suona bene, perché qua comunque l'inglese è proprio tradotto molto male. Comunque adesso ci viene presentato il servizio che vi ho detto prima, ovvero il servizio cloud di TAPO. A noi non interessa, possiamo andare su salta. Qua ci viene detto appunto come andare ad inserire la microSD all'interno della telecamera per andare a mantenere memorizzati i video che registra in caso di movimento. Qua abbiamo l'aggiornamento firmware, mettiamo sì dalle 3 alle 5, ed eccoci qua. Ora abbiamo, come potete vedere qua, la nostra telecamera inserita. Molto molto semplice, ovviamente questa telecamera si può comandare tramite Alexa, sì, tramite Alexa o Google Chrome. Ma ci dice qua? No, scusate, Google Home. Ora vi faccio vedere brevemente il menu. Questo è il menu, è molto molto semplice. Abbiamo la possibilità di andare a muovere con la funzione pan and tilt il brandeggio per andare a spostare la telecamera destra, sinistra, su e giù. Qua abbiamo possibilità di parlare tramite il proprio altoparlante. Noi clicchiamo, parliamo e l'altoparlante riprodurrà la nostra voce. Abbiamo la modalità allarme, che nel caso fosse attiva, quando rileva un movimento, parte una sorta di allarme, che non è neanche tanto allarme, ve lo faccio sentire. Questo è l'allarme. Lo spegniamo. Insomma, questa è la funzione. Abbiamo una funzione molto importante, nel caso andiamo ad inserire questa telecamera in casa, ovviamente, c'è la modalità privacy. Quindi noi possiamo andare a cliccare su modalità privacy e la telecamera andrà praticamente ad oscurarsi e quindi non andrà a registrare. Qua abbiamo la possibilità di andare a fare una foto a quello che sta registrando, possiamo andare a fare il video, registrare un video da mettere poi sul nostro telefono. Abbiamo il regolatore del microfono della telecamera per sentire quello che la telecamera sente. E poi abbiamo questa cornetta, che è sostanzialmente la funzione nella quale viene effettuata una chiamata e quindi si può parlare sia io che sto guardando dal telefono, sia chi è davanti alla telecamera, come se fosse una chiamata vera e propria. Un'altra modalità importante era playback and download, che viene attivata quando abbiamo inserito una microSD. Perché all'interno di questa sezione avremo tutti i video salvati sulla microSD che noi possiamo andare a vedere e all'occorrenza potremo andare a scaricarle sul nostro telefono. E queste sostanzialmente erano le cose principali che trovate sul menu dell'applicazione di TAPO Home. Considerazioni finali per questa telecamera. Secondo me comunque, avendo già altri prodotti di TAPO Smart per la videosorveglianza, trovo che questi siano veramente un buon prodotto, valido come rapporto qualità-prezzo. Perché veramente questa telecamera, se non sbaglio, l'ho pagata circa 30€. Vi lascio a caso mai qua tutti i link, tutte le cose che vi possono portare, eventualmente se siete interessati all'acquisto di questa telecamera. Se vi interessa vi lascio comunque il link qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, spero di aver detto tutto per questo prodotto. Se avete qualsiasi dubbio, qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, potete lasciare un commento qua sotto, io andrò a rispondervi. Se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, potete lasciare un pollice in su per supportare il video. E se vi interessa questo genere di contenuti, vi invito ad iscrivervi al canale. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto e non mi resta che salutarvi. E quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao! 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 Ciao!